simili di indole è vero rispetto a Morgan perché poi uno appunto sta su questo set ci sono loro tre però in effetti c'è un regista io mi sono veramente sentita diretta in questo film ho fatto un personaggio, una cosa piccola però ho avuto proprio la sensazione che lui avesse che Morgan avesse in mano l'erede di tutto questo circo che girava intorno e comunque anche questo è sorprendente così come è sorprendente che loro si compensino e vadano d'accordo e allo stesso tempo anche Morgan che evidentemente lavora con loro da tanto tempo ma è riuscito in ogni caso a fare il regista a essere regista insieme a Valeo perché la cosa meravigliosa di questo set è che c'era un regista che stava al monitor e comunque Valerio che ha scritto la sceneggiatura che stava sul set anche questo è molto importante che Valerio non si può Valerio ti prego esci perché ti stiamo evocando e non no ma Valerio è una persona più timida del mondo per cui non comparirà mai girano leggende che non esista in realtà che sia un personaggio della nostra fantasia però esiste ha avuto un ruolo importantissimo in questo film giuro che c'è fino all'ultima battuta che provavamo c'era se vedete un tatuaggio che cammina è lui salve qui ok grazie a tutti